Lì l'8 settembre ci hanno fatto prigionieri tedeschi, i tedeschi che erano amici il giorno prima e il giorno dopo diventarono i nostri nemici. E di lì mi hanno trasferito in Germania, a noi in Kirsenshara, nel nord della Germania, e lì mi sono preso due anni di prigionia. Poi mi hanno liberato gli americani e poi c'è stato il rimpatrio. Io lavoravo in un'acciaieria, lì a noi in Kirsenshara, il mio lavoro non era molto forte perché aiutavo nell'officina dell'acciaieria. Però il lavoro era, ci mancava il mangiare, tutto lì, poi c'è stato un terribile bombardamento gli ultimi giorni che ha distrutto completamente l'acciaieria. Siamo usciti, non c'era più un cane, neanche i guardiani non c'erano più. Allora non sapevamo dove andare, io e un mio amico di Vercelle. Una testimonianza di orrore, una testimonianza di sofferenze, lavori forzati, tanta fame, niente cibo. Poi ho cambiato parecchi campi di concentramento, secondo l'ultimo campo di concentramento sono stato a Cala in Lager 7, lo chiamavo il Lager della Morte, eravamo in 970, siamo rimasti in 45. L'incubo è finito quando sono ritornato a casa. Prima ho fatto 28 giorni di treno. Si facevano lavorare, dal mattino alla sera, e quando rientravamo all'accampamento, dal mattino fuori all'accampamento, mangiavamo una volta al giorno un mescolo di brodaglia, fame, ricordo tanta fame e tanto freddo, e lavorare perché c'erano le legnate. E cosa ricorda invece dei suoi compagni di progionia? Si strangevano amicizie, quali erano i rapporti? Con me c'era un barrese che è morto, è morto per strada, in una casina. Da Grosbur, al campo di azione di Lubecca, 40 giorni dimostri a piedi, dal mattino alle 6 fino alle 7, 8 di sera. Poi andavamo a dormire nelle casine, e la mattina presto per strada, camminare. 40 giorni sono stati lunghi, per strada tanti cadevano che la favano più da anni. Sono cose da dimenticare.